Assessore Pepe, riapre l'enoteca regionale con una formula completamente diversa? Una formula assolutamente arricchita grazie alla collaborazione del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzesi che si è aggiudicata la gara per la gestione triennale della nostra enoteca. Possiamo dare un impulso importante soprattutto per quanto riguarda la promozione sia a livello nazionale ma soprattutto per quanto riguarda l'export e le manifestazioni fieristiche. Il 28 riapriremo nell'ambito di Open Day Abruzzo questa importante struttura di promozione del nostro vino abruzzese. Vogliamo che l'enoteca regionale diventi la casa del vino abruzzese dove oltre al Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo anche tutte le associazioni abruzzesi che si occupano di vino, promuovono il vino come il movimento turismo del vino, le donne del vino, le città del vino possono avervi sede e possono dare anche un contributo forte attraverso manifestazioni che si dovranno svolgere in quella sede e non solo. Infatti una prima bozza di programma fino a marzo prevede già anche altre iniziative fuori dalla sede regionale di Palazzo Corvo a Ortona anche in altre location in giro per l'Abruzzo. Gli Open Day Winter saranno dedicati in particolare anche al centenario di tosti e faremo un'inaugurazione molto in sincronia con loro attraverso concerti musicali, degustazioni per cui è anche un'occasione per legare il vino all'arte, alla musica del nostro territorio. L'Enoteca può rappresentare un punto di riferimento per la promozione del vino e non solo, della nostra agricoltura nel suo complesso. La struttura di Ortona noi vogliamo diventi la casa del vino dell'Abruzzo e per questo ci stiamo impegnando insieme ovviamente al Consorzio di tutela che rappresenta tutto il vino abruzzese.